E' su Via Belvedere che si sono concentrate anche le attenzioni dei ladri. Qui si sono consumati episodi e danni di un noto caseificio e di una rinomata pizzeria. Obiettivo sono state le casse automatiche presenti nelle due attività. Si tratta di macchine prese di mira dai delinquenti che le asportano totalmente per poi lavorarci con calma. Ci hanno derubato, ci hanno fatto oltre 20.000 euro di danno tra la cassa automatica, i soldi che c'erano dentro e la serranda che hanno rotto. Comunque oltre 20.000 euro di danno. Purtroppo non ci aspettavamo questo perché manco a farla apposta due settimane prima ci avevano fatto anche l'altro negozio. Fortunatamente non hanno trovato nulla quindi hanno passato oltre. Sono persone che probabilmente già sapevano dove andare o perlomeno in giorni addietro sono passati, sono venuti probabilmente anche a comprare. Quindi hanno visto con i loro occhi come fare e come non fare. Ci hanno dato veramente una gran mano sia la polizia sia i carabinieri di Battivaglia ovviamente. Siamo in realtà molto felici di questo perché al giorno d'oggi ovviamente parlano e le forze dell'ordine non ci sono vicine. Invece no, fortunatamente ci sono molto vicine e siamo grati anche per questo. Speriamo solo che almeno scoprano chi sono e la finiscono una volta e per tutte. Perché non solo per me, io parlo anche, credo a nome di tutti i commercianti qui intorno. Ma non solo di Battivaglia, anche di altre città, altri paesi perché sono venuta a conoscenza che anche da altre parti, in altre città è successo.